Prudente ma positivo e le giudizie a freddo dei mercati sugli accordi raggiunti nel vertice di Bruxelles, borse in positivo in calo allo spread tra buoni del tesoro e bund tedeschi. A Bruxelles decisioni concrete e coerenti con la nostra linea fa sapere il portavoce della Merkel. A maggio il tasso di disoccupazione in Italia scende di un decimale appena al 10,1% ma per i giovani è un disastro. Oltre il 36% dei ragazzi tra i 15 e 24 anni è senza lavoro, record storico. Nell'area euro la disoccupazione continua ad aumentare. Giorni di trattative e mediazioni per la spending review. Oggi Monti incontra i ministri più interessati dai tagli che saranno concentrati soprattutto su sanità e pubblico impiego. In fibrillazione partiti, enti locali e sindacati che chiedono a Monti di trattare. Arrestato il capo della security delle San Raffaele, secondo le accuse, avrebbe organizzato su ordine di Don Verzee l'incendio di una struttura vicina all'istituto per spingerne il proprietario a vendere i terreni. Arresti anche per un furto da un milione dalla cassaforte di Cal, quattro giorni prima che il braccio destro di Don Verzee si suicidasse. Prandelli, il giorno dopo la disfatta di Kiev, orgoglio ma anche critica al sistema calcio. Ci sono tante cose da cambiare. Se si vuole essere con continuità ai vertici, poi aggiunge vincere l'europeo avrebbe fatto bene ma avrebbe tolto l'equilibrio a qualcuno. E in Spagna, notte di festeggiamenti per lo storico triplete delle furie rosse. Buongiorno a tutti voi dalle telegiornale della Sette. Dunque, dopo l'euforia dell'ultima seduta, quella di venerdì scorso, l'accordo europeo oggi è la seconda prova dei mercati. Mercati, diciamolo subito, che stanno reagendo bene, viaggiano tutti in territorio positivo. Occhi puntati sullo spread, decisamente in calo. Il servizio. Si riaccendono le luci sui mercati europei. C'era grande attesa per vedere come le piazze finanziarie del vecchio continente avrebbero cominciato la prima seduta a mente fredda dopo l'accordo sullo scudo antispread e sulla ricapitalizzazione delle banche ed il conseguente e uforico venerdì dei grandi rialzi. Decisioni concrete e coerenti con la linea del governo tedesco, secondo il portavoce dell'esecutivo di Angela Merkel, Stefan Seibert, che ha così voluto allontanare l'immagine della Germania, grande sconfitta del vertice. Un accordo, quello raggiunto giovedì, nella capitale belga ancora tutto da definire per quanto riguarda soprattutto le modalità di applicazione del meccanismo antispread. Ebbene, in attesa che l'Eurogruppo del 9-10 luglio definisca tali modalità, è che giovedì prossimo la banca centrale europea guidata da Mario Draghi abbassi, questa è la previsione di molti analisti, i tassi di interesse al di sotto dell'1% per rendere il clima più favorevole alla buona riuscita del piano. I mercati continuano il loro trend sostanzialmente positivo. Eccolo qui il quadro completo dell'andamento delle borse europee, molto volatile Milano che corre sul filo della parità, così come Madrid, due piazze che forse più delle altre risentono dei dati non positivi sulla disoccupazione, molto meglio invece Francoforte e Parigi. Un quadro complessivamente buono al quale ha contribuito anche l'indice sull'attività manifatturiera, rimasto invariato nel mese di giugno mentre le previsioni parlavano di un'ulteriore flessione. Certo, rimane sotto 50 punti, cifra che significa comunque una contrazione dell'attività. Continua è per fortuna il volo a planare degli spread e il differenziale BTP Bund decennale, infatti dopo essere salito in apertura di contrattazioni a 426 punti base, è sceso notevolmente nel corso della giornata fino a toccare i 404 punti per poi attestarsi sui livelli della chiusura di venerdì. Si restringe rispetto a tre giorni fa, seppur di poco, la forbice tra bonus spagnoli e Bund. Attualmente viaggia intorno ai 468 punti base con rendimenti decisamente più vicini al 6% che all'insostenibile 7% di giovedì scorso. Insomma, sembra che lo scudo antispread, anche se non ancora definito nei dettagli operativi, stia già dando i suoi frutti. Intanto, a proposito di debito sovrano, è notizia di questa mattina che l'ESMA, l'autorità europea dei mercati, aprirà un'inchiesta su Standard & Poor's, Moody's e Fitch per verificare che i criteri che hanno portato al downgrade di molte banche, siano stati sufficientemente rigorosi e trasparenti. Sempre nell'occhio del ciclone, dunque, i giganti del rating. Questa dunque è la risposta dei mercati oggi all'accordo raggiunto giovedì notte. I mercati, però, lo abbiamo sentito nel servizio, devono fare i conti anche con i dati sulla disoccupazione nell'aerozona. In particolare, in Italia, quella giovanile ha raggiunto livelli record oltre il 36%. Il mese di riferimento è quello di maggio ed è il dato più alto di sempre. 0,9, quasi un punto percentuale in più guadagnato in un mese. E così, in Italia, a maggio, il tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni arriva al 36,2%. Un doppio record, sia rispetto alle serie storiche mensili cominciate nel 2004, sia rispetto a quelle trimestrali, a partire dal 1992. I numeri forniti oggi dall'Istat, dunque, certificano ancora una volta la tendenza in atto nel Paese riguardo la forza occupazionale di un'intera generazione bloccata dalla crisi in corso. E solo in parte consolano i numeri registrati sulla crescita in generale degli occupati. A maggio sono 23 milioni e 34 mila, in aumento dello 0,3% rispetto ad aprile, che vuol dire 60 mila unità. Se la percentuale italiana dei senza lavoro, dunque, tocca a maggio il 10,1%, su scala europea, la situazione migliore si registra in Austria, con la disoccupazione al 4,1%, Olanda 5,1%, Lussemburgo 5,4% e Germania 5,6%. Peggio di noi stanno Spagna 24,6%, Grecia 21,9%, Portogallo 15,2% e Irlanda 14,6%. Ma tornando al problema dei giovani disoccupati, nell'Europa 27 sono 5,517 mila, il 22,7% rispetto al 21 del maggio 2011. 3,412 mila sono invece quelli dell'Eurozona, 22,6% rispetto al 20,5% di un anno prima. I tassi di disoccupazione giovanile più bassi si registrano in Germania 7,9%, Austria 8,3%, Olanda 9,2%, i più alti in Spagna e Grecia 52,1%, Slovacchia 38,8%, Portogallo 36,4%. E questa è la settimana decisiva per i tagli che il Governo dovrà attuare per scongiurare l'aumento dell'IVA ad ottobre. I settori interessati sono quelli della sanità e della pubblica amministrazione. Si parla di misure che vanno dai 4 agli 8 miliardi. I sindacati sono già sui piedi di guerra, non ne vogliono assolutamente sapere di tagli lineari e Bonanni minaccia anche lo sciopero generale. Sarà un'operazione chirurgica con tagli fatti col bisturi in modo da stroncare la malattia delle spese superflue ma nello stesso tempo salvare le funzioni? O sarà una manovra con l'accetta come temono partiti e sindacati? Ancora qualche giorno per avere le risposte definitive sulla spending review orchestrata dal supercommissario Enrico Bondi ma con l'apporto decisivo dei singoli ministeri. Per una forbice di interventi immediati è il caso di dirlo che potrebbe andare da circa 4 miliardi ad almeno il doppio. E parlando di ministeri si comincia con la sanità. Il ministro Balduzzi ha proposto un piano di risparmi di circa un miliardo da qui alla fine dell'anno. Bondi e il ministro per i rapporti col Parlamento Giarda pretendono però 300 milioni in più e si dovrebbe raggiungere un risparmio totale di oltre 8 miliardi nel 2014. Come ci si arriva? Con taglie nei contratti d'acquisto dei farmaci ospedalieri, delle prestazioni in strutture convenzionate ma anche nei beni e servizi forniti al sistema sanitario nazionale che dovranno adeguarsi a prezzi di riferimento stabiliti centralmente. Anche se in questo campo il ministero ha chiesto un certo margine. È ovvio che per acquistare mettiamo una protesi al seno l'unico criterio non può essere quello del prezzo più basso. C'è poi il grande bacino del pubblico impiego. Le indiscrezioni parlano innanzitutto di riduzione degli organici e se vi fa venire in mente quanto ha chiesto l'Europa alla Grecia per esempio ricordate bene. Solo che noi lo facciamo spontaneamente senza per ora interventi della cosiddetta troica. Nel giro di tre anni i dipendenti statali dovrebbero calare di circa 100.000 unità. Sarebbe incentivato in qualche modo a lasciare il posto pubblico il 20% dei dirigenti e scatterebbe anche una riduzione del 10% circa dei dipendenti dei ministeri. Terreno di caccia per bondi poi saranno certamente gli enti locali. Solo dopo il Consiglio dei Ministri si saprà a quante storiche province si dirà addio. In base a certi criteri di sopravvivenza di cui si è parlato, 30.000 km2 di superficie, più di 350.000 abitanti e più di 50 comuni compresi, ad esempio la Toscana dovrebbe conservare solo Firenze. Ma ancora più duro dovrebbe essere l'intervento sulle migliaia di società controllate da Stato ed enti locali. Intanto dovrebbe essere approvato un tetto di tre persone nei consigli d'amministrazione che costano ogni anno allo Stato da soli 2 miliardi di euro. E allora si comincia stasera con una riunione interministeriale a Palazzo Chigi, poi l'incontro clou, quello di domani con enti locali e sindacati. Insomma sarà una settimana fitta di impegni, trattative e mediazioni e i partiti dovranno fare la loro parte. Credo che la luce che c'è alla fine del tunnel cominci a penetrare il buio del tunnel. Una metafora che non basta schierire gli immediati orizzonti. All'indomani della sconfitta della Nazionale Azzurra Montici prova a risollevare gli spiriti di tutti. L'Italia calcistica ci ha fatto comunque sognare, dice nel dopo partita, ma già oggi gli italiani torneranno a fare i conti con la dura realtà. I tagli della spending review sono in agguato. Una sforbiciata consistente che colpirà soprattutto sanità e pubblici dipendenti che sta mettendo in allarme i ministeri interessati e in fibrillazione forze politiche e parti sociali. Una fiammata che farà ribollire ancora di più l'atmosfera delle prossime ore. Oggi a Palazzo Chigi, vertice interministeriale. Domani l'incontro con enti locali e sindacati che già sono sul piede di guerra contro i tagli lineari della spending review. E se Casini consiglia Monti di tirare dritto evitando di convocare vertici con la propria maggioranza, PD e PDL fanno scattare i loro paletti. Se Monti tira dritto con i tagli lineari non concordati con le parti sociali, Bersani stavolta non assicura il proprio appoggio. Dello stesso tono il PDL se pensano di arrivare in Parlamento con un pacchetto blindato e cavarsela con la fiducia, stavolta ballano davvero, dichiara Cicchitto. Di tono diverso bocchino per il Fli. Monti batta i pugni sul tavolo sulla spending review come ha fatto in Europa. Nessun compromesso. Una tensione crescente che il professor Monti dovrà ancora sapientemente dribblare prima di convocare il Consiglio dei Ministri che dovrà avvarare il decreto forse giovedì dopo che il Premier avrà riferito in Parlamento sui risultati del summit europeo. Di certo comunque Monti farà leva su tre argomenti forti. Attraverso questi tagli si potranno coprire le maggiori spese per i terremotati, per gli esodati e scongiurare l'aumento ulteriore dell'IVA ad ottobre. E poi c'è la Lega che da ieri dopo 30 anni non è più guidata da Umberto Bossi ma da Roberto Maroni. Il primo appuntamento delle Carroccio oggi è stato al Pirellone, sede della regione Lombardia dove il neosegretario Salvini ha incontrato Formigoni. Il primo giorno della nuova Lega inizia dal palazzo della regione Lombardia e si presenta forte Matteo Salvini, il Golden Boy di Milano, neosegretario del Carroccio Lombardo, un incontro con il governatore Formigoni, quello che spezza la linea verde tra il Piemonte di Cota e il Veneto di Zaia. Dobbiamo andare avanti a dimostrare che l'accordo tra Popolo e Libertà e Lega Nord garantisce il buon governo al Nord. Questo è il nostro impegno e vogliamo e dobbiamo farlo fino al 2015. Il presidente Formigoni continuò a stentare tranquillità nonostante le inchieste e l'avviso di scadenza alleanza a primavera 2013, ribadito ieri al congresso di Assago ma che per il momento non è tra i primi punti dell'agenda leghista. Erano in 5000 ieri ad Assago, si rivedranno a Pontida, Venezia e il rito dell'Ampolla rimandate da settembre all'autunno. Ci saranno a fine mese gli stati generali, niente comizio di ferragosto del senatore a Ponte di Legno. Ecco i prossimi appuntamenti della Lega di Roberto Maroni che col congresso di ieri ha chiuso le pagine nere degli scandali e delle lotte intestine. Il pianto di Bossi che consegna di malavoglia la sua Lega Maroni ha toccato il cuore dei militanti ma non quello di chi ora si deve rimboccare le maniche per riportare il carroccio a risultati elettorali decorosi dopo la batosta delle amministrative che al di là della Padania, la secessione, i fischi al governo, deve decidere se stare a Roma o tornare all'opposizione esterna più dura iniziando dalla battaglia contro l'Imu portata avanti da quei sindaci guerrieri che ieri Maroni, segretario con pieni poteri, ha indicato come la prima linea del nuovo fronte leghista. E siamo alla finale degli europei di calci, lo sapete gli azzurri sono stati sconfitti dalle furie rosse per 4 a 0, gli azzurri sono arrivati oggi a Cracovia, il CT Prandelli ha tenuto poco fa una conferenza stampa, per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro inviato Francesco Izzi. Francesco. Sì, buongiorno da Cracovia, da casa azzurri, in effetti proprio qualche istante fa è terminato l'incontro con la stampa di Cesare Prandelli, ormai il sogno di rivincere l'europeo dopo 44 anni è alle spalle, restano i tanti complimenti, si guarda al futuro, il CT ha dichiarato che il primo a chiamarlo è stato Fabio Capello e poi soprattutto ha confermato che resterà alla guida della nazionale puntando dritto al mondiale in Brasile 2014, è un paese vecchio questo è un calcio che va riformato, lui ci crede ancora, questo è il momento dell'ingresso con una standing ovation, applausi a scena aperta per Prandelli che dunque vuole continuare questo lavoro con dei punti fermi, si è tolto anche quei famosi sassolini, si è capito ormai che erano relativi al figlio, a chi diceva che era raccomandato, Nicolò, professore Isef che ha dato una grande mano nello staff ed è stata un po' una pena questa per Cesare Prandelli. Come dicevamo c'è da ripartire di slancio per proseguire questo piano, questo progetto che non è solo tecnico è anche fuori dalla campo, allora ascoltiamo i brani salienti di Prandelli e anche la stoccata alla Lega del Presidente federale a Bete. Possiamo essere orgogliosi di questa Italia, abbiamo ricevuto complimenti da parte di tutti per la prima volta nel modo assoluto una panchina si alzava e andava a salutare l'altra panchina in tutte le partite, quindi abbiamo sorpreso gli avversari anche da questo punto di vista. Io penso di saper fare modestamente il mio lavoro e in queste due o tre settimane l'ho dimostrato, se devo allenare una squadra e fare tre allenamenti ogni otto mesi non è un... dico ma non lo so, non so se sono all'altezza, non sono un politico, non sono un burocrate, sono un allenatore di campo, sono una persona che lavora sul campo e quindi avrei la necessità e la volontà di far crescere questo movimento lavorando in questo modo. Se noi vogliamo veramente cambiare e rinnovare lo dobbiamo fare per lungo tempo, non dobbiamo vivere solo attraverso un risultato, certo sarebbe stata una cosa straordinaria ma forse non siamo ancora pronti, forse non siamo ancora pronti e nel momento che saremo pronti a vincere saremo pronti per rivincere, saremo pronti per continuare a vincere. Dato che la Lega naturalmente è il cuore del mondo del calcio in termini di valori espressi da un punto di vista tecnico e da un punto di vista progettuale, l'assenza di progetto da parte della Lega determina un danno per il sistema calcio. La Nazionale tra poco riprenderà la via per l'Italia, alle 18 arrivo a Fiumicino e poi alle 19 come annunciato l'incontro al Quirinale con il Presidente Napolitano. Ma torniamo alla serata di ieri, la sconfitta con la Spagna anche per celebrare i campioni del mondo e d'Europa. Il servizio. Che succede? Che succede? Che l'Italia non ha giocato per niente, la Spagna è stata nettamente superiore a noi e come nel gioco del calcio che più forte vince. Siamo stati migliori durante tutto il match, siamo i campioni d'Europa. L'analisi di questa sconfitta è tutta qui, nelle parole di chi ha vissuto a Kiev una notte esaltante e chi deludente. Ma questa sconfitta brucia soprattutto per il modo in cui è arrivata, quei quattro gol pesano come macigni, perché non era mai successo in una finale europea o mondiale che una squadra fosse umiliata così. C'è riuscita la Spagna, regina del calcio, a coronamento di quattro anni indimenticabili. È la nazionale più forte di tutti i tempi, la prima ad aver conquistato tra europei e mondiale tre titoli consecutivi. E in che modo? Dal 2008 non subisce un gol dai quarti di finale in poi. Contro questa Spagna, oggi imbattibile, si è infranto il sogno di un'Italia arrivata in finale con le batterie totalmente scariche. Sul campo noi eravamo irriconoscibili, le furie rosse ci hanno dominato. La presa di coscienza ha fatto sgorgare lacrime di rabbia sui volti dei nostri, ma non c'è stato altro da fare se non inchinarsi a loro. Tuttavia la lezione subita in vista del traguardo non sminuisce quanto fatto dagli azzurri in questo europeo, dal quale usciamo comunque a testa alta considerato il percorso compiuto, fino a ieri. Partita da casa, con sulle spalle un fardello di polemiche contro ogni pronostico, l'Italia di Prandelli ha raggiunto l'ultimo atto del torneo disputando una semifinale da incorniciare contro la Germania. Trascinata dai gol di Super Mario Balotelli, entrato finalmente nel cuore degli appassionati, gli azzurri, a 44 anni di distanza dal successo del 68, avevano accarezzato l'idea di poter salire sul gradino più alto del podio. Meta quasi raggiunta grazie al lavoro svolto in due anni da Cesare Prandelli, che prese le redini nel 2010 dopo la debacle del Mondiale sudafricano. La sua riforma tattica si è dimostrata efficace, ma contro l'arte e il genio dei fenomeni spagnoli, al momento non c'è rimedio che tenga. I campioni sono ancora loro ed Iniesta è eletto miglior giocatore del torneo, il loro trascinatore. Grazie, grazie a Francesco Izzi e buon rientro. La delusione degli italiani che hanno seguito la partita nelle piazze italiane è stata ovviamente grande e in alcuni casi questa delusione si è trasformata anche in rabbia come al Circo Massimo a Roma. Vediamo. Piazze sature di afa e di speranza, piazze immerse nel tricolore, poi nel dispiacere, da Roma a Milano, da Torino a Napoli, volti abbacchiati, gente delusa, ma tutti capaci di accettare la batosta senza abbandonarsi all'isteria. Eppure qualche bruttura ha saputo aprirsi il varco. È successo a Roma, nel carnaio del Circo Massimo, tra 50.000 persone. Nell'oceano tricolore hanno galleggiato anche una croce celtica, una bandiera con l'effigie del duce e una svastica accompagnata da un braccio teso nel saluto romano. Ieri notte la Digos ha fermato per resistenza pubblico ufficiale un giovane di 23 anni identificato dalle telecamere di sorveglianza mentre sventolava la bandiera con il simbolo nazista. Il ragazzo è stato anche denunciato per apologia di reato. Quando mancavano pochi minuti alla fine, con gli spagnoli in vantaggio, di tre gol, al Circo Massimo sono partiti anche petardi, fumogeni e bottiglie contro un maxischermo che ha smesso di funzionare. Un 19enne amico del ragazzo che brandiva la svastica è stato arrestato anche lui per resistenza pubblico ufficiale. Le telecamere lo hanno ripreso mentre lanciava oggetti, altre due persone sono state identificate. Amarezza che sconfina nel vandalismo, l'eccezione. In una serata che ha radunato e unito nei bar e nelle strade gli italiani, il collante questa volta è stata una disillusione coccente. Superati dagli eventi anche i divieti a caroselli e auto annunciati da alcuni comuni. Hanno cantato gli spagnoli, a Kiev, come nei pub romani. Qui siamo dietro a Piazza Navona, ecco i campioni d'Europa schierati dietro ai tavolini di un bar punteggiato di maglia azzurra. Di ben altro impatto ovviamente il colpo d'occhio offerto dalle piazze della penisola iberica, da Valencia a Siviglia più contenuta la festa a Barcellona. Cuore del trionfo ovviamente è Madrid, qui l'euforia si è scatenata con caroselli sfrenati e una festa dilagata nei luoghi simbolo come Piazza Sibeles. Una festa durata fino alle 3 del mattino, ci sono stati 114 interventi del personale sanitario nella sola capitale, qualche contuso e qualche intossicato per il troppo alcol. Questa mattina la città madrillera si è svegliata ancora in bandierata e con i volti stropicciati dopo una notte di gioia pura. Tornando alle notizie economiche, resta sempre molto difficile il mercato delle auto. Iveco ha annunciato ieri la chiusura di nuovi di 5 stabilimenti in Europa, annuncio accompagnato anche dagli elogi verso Monti da parte dell'amministratore delegato di Fiat Marchionne. Sentiamo. Il visconte di Mezzato. L'amministratore delegato del gruppo Fiat Sergio Marchionne rischia di somigliare sempre di più al protagonista del romanzo di Calvino, il visconte appunto diviso in due parti speculari da una palla di cannoni. Una parte buona, leggi per Fiat, Chrysler e impianti americani, e una parte cattiva, leggi stabilimenti europei. Alle due parti corrispondono scelte e decisioni comunicate in prima persona. Marchionne si mostra ugualmente freddo sia nel fronteggiare le critiche che nel riscuotere apprezzamenti. Ieri il manager del passaporto italo-canadese ha approfittato della presentazione di un nuovo veicolo Iveco, lo Stralis per la precisione, per commentare l'operato del premier italiano al vertice di Bruxelles. Monti ha fatto un capolavoro che può davvero cambiare lo scenario in Europa, ha detto. Con questa intesa abbiamo trovato la struttura necessaria ad uscire dalla crisi. Poi, dribblando l'ipotesi di considerare l'Italia vincitrice contro la Germania, non solo sul campo di calcio ma anche sul fronte politico-economico, ha interpretato l'accordo come uno strumento che consentirà di investire nei paesi dell'Unione con maggiore tranquillità. Parole importanti che non fanno dimenticare però le scelte annunciate dallo stesso Marchionne pochi giorni fa. 500 milioni di investimenti in meno in Italia per l'anno in corso legati alle incertezze della zona euro. Come se non bastasse, ieri è arrivata l'altra cattiva notizia. Fiat Industrial chiuderà 5 stabilimenti della controllata Iveco in Europa, uno in Francia, due in Germania e altri due in Austria. A rischio poco meno di 1.100 posti di lavoro. Per l'amministratore delegato di Iveco Alfredo Altavilla si tratta di una decisione inevitabile per rafforzare l'azienda nel suo insieme. Azienda che, spiega, si prepara ad affrontare la fase di transizione che accompagnerà gli stabilimenti verso la ripresa economica. La parte cattiva del visconte di Mezzato, Marchionne, sa far bene di conto e infatti decide di mantenere la previsione di vendita sul mercato italiano per il 2012 a quota 1.400.000 vetture. Quanto all'andamento del secondo trimestre non si sbilancia, è troppo presto, spiega, è appena finito. Al momento, sia il titolo Fiat che Fiat Industrial viaggiano in borsa sulla parità. Forse il visconte Marchionne è riuscito a convincere gli investitori. E dagli esteri, dopo 12 anni, torna al potere in Messico il partito rivoluzionario istituzionale che aveva governato per 71 anni prima di perdere nel 2000 a causa della sua impronta autoritaria e numerosi casi di corruzione. È stato eletto, lo vedete, con il 40% dei voti. Il 45enne Enrique Peña Nieto, ex governatore dello Stato del Messico. I messicani hanno dato un'altra opportunità al nostro partito, ha detto, la onoreremo con i risultati. Poi un appello alla riconciliazione nel Messico di oggi, plurale e democratico. Tutti abbiamo un ruolo. Ora il Paese chiede l'unità di tutti i messicani. E adesso vi do la notizia, prima allora di parlare delle San Raffaele, diamo la pubblicità tra poco. Ci sono dei problemi sul servizio che riguarda il nuovo filone di inchiesta sul San Raffaele a Milano. Quindi vi riassumo io la notizia. Cosa c'è stato? Sono tre addetti della security del San Raffaele, dell'ospedale San Raffaele. Sono stati arrestati questa mattina dalla procura di Milano. Le accuse sono a vario titolo di incendio, estorsione e furto. Si tratta di Antonio Vito Cirillo, Danilo Donate e Francesco Pinto. A Donati in particolare viene contestato di aver provocato l'incendio di un campo sportivo che confina con l'ospedale San Raffaele. Il reato sarebbe stato commesso su mandato del fondatore dell'azienda ospedaliera Don Luigi Verze. E poi due dei tre responsabili della security, sempre del San Raffaele, Antonio Cirillo e Francesco Pinto, sono stati arrestati sempre nell'ambito di questa inchiesta dalla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano e sono accusati anche di furto da un milione di euro che sarebbe avvenuto il 13 di luglio del 2011, poco prima del suicidio, lo ricorderete, di Mario Calle. I soldi sarebbero stati sottratti dal cavo dell'ospedale San Raffaele. Questa dunque la notizia in breve che riguarda questo nuovo filone d'inchiesta della procura di Milano sul San Raffaele. Per ora è tutto, vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.it e l'edizione delle 20 del telegiornale. Grazie per averci seguito, buona giornata, noi ci vediamo domani.